La serenità al parto è la cosa più bella che ci sia per l'esperienza che si fa a vivere e per far funzionare il meccanismo del travaglio. Sappiamo infatti che da studi scientifici che la paura e lo stress alterano l'andamento del travaglio. Ma come si arriva serene al parto? Sicuramente facendo i controlli in gravidanza per assicurarsi che il bambino stia bene, la placenta funzioni correttamente e liquido sia nella norma. La seconda cosa è farsi accompagnare durante la gravidanza dall'ostetrica e seguire i corsi di accompagnamento alla nascita. Sono momenti importanti in cui vengono illustrate le dinamiche del travaglio e come affrontare la scalata di una montagna senza conoscere il percorso. È ovvio che arriveremo a dei momenti di panico e di ansia. Viceversa, conoscere il percorso e lavorare in team ci aiuterà a essere più sicure e affrontando meglio quello che ci aspetta. Quindi la raccomandazione è farsi seguire in gravidanza come da linea guida e seguire i corsi di accompagnamento alla nascita. Qui in Policlinico offriamo ogni mese corsi di preparto alle mamme e ai loro accompagnatori in piccoli gruppi in cui è possibile condividere sentimenti e dubbi con l'ostetrica di riferimento.